A sorprese Vantisci Balzenpol per la panchina del Cerignola, l'ex allenatore del Fasano avrebbe nelle ultime ore superato la concorrenza di Roberto Taurino e Leonardo Colucci. Ci sarebbe un primo accordo verbale, dentro martedì 4 luglio potrebbe arrivare la decisione definitiva. Si tratta di un vero e proprio ribaltone, è raggiunto ormai da settimane l'accordo con Roberto Taurino, nonostante il prolungato tentativo per Leonardo Colucci, pupillo della società ufantina. L'ex tecnico della Juve Stabia, originario proprio di Cerignola, avrebbe respinto la proposta al mittente per motivi personali. Il 49enne Tisci, in caso di accordo definitivo, sederebbe sulla sua prima panchina tra i professionisti, due le esperienze da primo allenatore finora. Un nono posto con il Fasano nella passata stagione, in Serie D, e sempre in Serie D, una retrocessione non evitata con il Bicelli due anni fa, essendo arrivato però soltanto a metà aprile. Prima invece le esperienze da vice di Christian Bucchi ad Empoli e Benevento saranno ore decisive per la panchina del Cerignola, non si escludono altri colpi di scena.